Oggi c'è stata la prima riunione dei Dieci Saggi con il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. La Lega Nord, perché è soddisfatta di questa decisione del Capo dello Stato? La Lega Nord, più che soddisfatta, auspica un risultato positivo per il tentativo messo in atto dal Presidente Napolitano. Sicuramente i temi su cui lavorare sono molti e crediamo che la Lega possa fare la sua parte, dando quelle proposte per la soluzione delle problematiche che ci sono, che sono le proposte che derivano dalla nostra presenza sul territorio, da tanta esperienza politica che è stata maturata nell'amministrazione e nelle istituzioni, compreso il Parlamento e il Governo centrale. Riteniamo che soluzioni, quale l'attuazione reale del federalismo fiscale, piuttosto che la modifica costituzionale per fare il Senato delle Regioni, il dimezzamento dei parlamentari e, dal punto di vista economico, ad esempio la revisione del patto di stabilità, piuttosto che un intervento per pagare i debiti della pubblica amministrazione e tante altre cose, tipo la riduzione della pressione fiscale, siano cose che si possono fare, ma bisogna metterci la testa. Ed è per questo che crediamo e speriamo che il lavoro dei saggi abbia un effetto positivo. Il Governo Monti però rimane in carica. La Lega Nord come si pone nei suoi confronti? Ma noi non cambiamo il giudizio sul Governo Monti. Il Governo Monti ha lavorato, secondo noi, senza dare effetti positivi all'economia del Paese, non ha assolutamente portato dei risultati che dovevano essere, almeno nei progetti, nelle prospettive del suo insediamento a beneficio di tutti i cittadini, ha sostanzialmente galleggiato, ha dimostrato la sua inadeguatezza. Crediamo che, da questo punto di vista, il Governo Monti debba durare il minor tempo possibile ed è per questo che auspicchiamo che, con il lavoro dei saggi fatto in breve tempo, si possa divenire a una nuova forma di governo che preveda, anche tramite una consultazione costante con i rappresentanti della macro-regione del Nord, le risposte che i cittadini attendono. Il PDL vuole un nuovo governo in tempi brevi. Lei cosa ne pensa? La gente vuole un governo. I cittadini, le imprese, l'economia, tutti vogliono un governo. Un governo che abbia una ampia base parlamentare, una ampia base politica, una condivisione sul programma. Un programma importante che deve essere attuato. In questo momento noi diciamo, a prescindere da quelle che possono essere le singole posizioni politiche, bisogna guardare all'interesse complessivo, dopodiché ognuno rimane del suo movimento politico, ognuno appartiene al proprio partito, ma in questo momento è necessario trovare ciò che unisce e non ciò che divide. La linea di Lega e PDL in questo momento è compatta in questa soluzione? La linea della Lega e del PDL è compatta e soprattutto la linea della Lega è quella di difendere gli interessi della gente del Nord, cosa che per noi è fondamentale in un lavoro che deve essere svolto in raccordo con tutti i nostri presidenti della macro-regione.